ciao tra due anni e 80 anni e come tutti quelli che tra due anni hanno 80 anni o hanno 70 o anche 60 sono stato siamo stati sono stati anche questi che hanno quell'età bambini ma quando ero bambino mi chiedevo ma gli adulti sono stati è una domanda teorica ma gli adulti sono stati bambini perché trattano i bambini come degli scemi e i bambini fanno domande chiedono perché e sentivo delle risposte assurde davano delle risposte assurde dalla storia di babbo natale che non bisogna togliere i bambini babbo natale ma non esiste babbo natale allora però i bambini non chiedono perché arrivano a una riabbonata fanno molte domande cioè una bambina che aveva 8 anni ho saputo che ha avuto un fratellino nato ci ha avuto ha chiesto ma com'è nato un parente ma come vuoi che sia nato dalla pancia di tua madre e quella si è sentita male perché non ha capito come dalla pancia non capiva allora le spiegazioni che gli adulti hanno dato sono o stai zitto o vai a scuola studia o risposte più infantili dei bambini che le facevano allora dico ma poi questi bambini quando crescono cosa fanno fanno come loro genitori vediamoci su tutti i genitori sono stati bambini ma allora perché replicano ai bambini può dire non lo so il bambino può chiedere è abitata la luna non lo so esistono gli angeli non lo so lo so di quello che sai è meglio un'onesta dichiarazione di ignoranza piuttosto che raccontare palle poi cosa succede che quando il bambino cresce e diventa adolescente tra i dodici e dieciotto anni ha una crisi di rigetto verso gli adulti e genitori perché si accorge che non solo non hanno risposto ai perché ma hanno raccontato un sacco di storie stupide inutili storie che gli hanno confuso la mente e poi di colpo quindi inutile riempire i bambini di cartone animati di peter pan e di babbo natale la fata turchina e la befana e poi di colpo no no guarda allora adesso sei adulto allora che cosa fanno questi bambini nervositi disperatamente cercano di crescere più velocemente e lì cominciano a fare degli errori grossi li ho visti quando ero bambino ragazzo adolescente li vedo ancora oggi cosa fa qual era il gesto che un quattordicenne un quindicenne poteva fare a scuola all'entrata o l'uscita dalla scuola accendersi una sigaretta qual è il gesto che uno di quattordici quindici o sedici anni ragazzo o ragazza attenzione non è che è tutta colpa dei maschi c'è una condivisione di responsabilità in una festa arrivare con una bottiglia di tequila di whisky di gin di vodka e bere 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 non dal bicchiere bere proprio sono stati diversi casi di coma etilico coma etilico a 14 15 16 anni ricovero distruzione del fegato dagli organi interni perché disperatamente volere essere adulti essere stufi di essere chiamati bambini o ragazzini mi è capitato una volta di leggere su un articolo su un giornale un ragazzino fa una rapina poi vado a leggere un ragazzino di 17 anni ma come gli 17 anni non è un ragazzino ma poi perché essere chiamata ragazzini ragazzino ragazzina perché chiamare una quattordicenne una quindicenne una ragazzina quella si offende per essere donna fa anche cose che non farebbe normalmente quindi i bambini chiedono perché se tu sei adulto e bambini ti chiedono perché rispondi sinceramente rispondi onestamente se non lo sai di non lo so ti auguro di scoprirlo nel corso della tua vita io non lo so è semplicissimo perché fingere l'adulto la deve smettere di farlo adulto deve ricordarsi che è stato bambino che è stato ragazzo che non gli piaceva che un trentenne quando aveva 15 anni essere chiamato da un trentenne un ragazzino ragazzina no 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 io dico siamo spiriti eterni mai nati mai morti ma se vogliamo stare nel campo vivente siamo esseri viventi siamo esseri umani questa etichettatura etichetta no ragazzino va oppure chiedono no mamma papà ma voi come fate avere figli no cioè quindi parla dei suoi fratelli o di se stessi ma vai a giocare un giorno lo scoprirai va a giocare va diverti va a giocare ma che domande sono no studia vai a scuola no come è possibile che i figli sono figli di un rapporto sessuale e l'educazione sessuale è che la maggior parte dei figli non sanno niente io mi ricordo che ho fatto le cinque elementari le tre medie nessuno sapeva come nasce un bambino cioè come nasce nel senso che ogni bambino bambina i bambini nascono dalla polizia sessuale non lo sapeva nessuno però gli dicevano già tentivo no da grande da grandi avrete figli come verbo avere da grandi farete figli fa come allora onestamente parlando onestamente parlando se bambini chiedono perché si onesto ricordati quando eri bambino fai il bravo dà la risposta giusta che è la tua di la mia esperienza mi dice che e poi i bambini vanno invitati a leggere leggere e leggere perché uno più legge più si forma e meglio è ti dico questo stai attento perché potresti rinascere bambino no 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 Grazie a tutti.